Il giorno dopo come abbiamo visto lei è andata a fare jogging con i gioielli della principessa Diana che ormai noi sappiamo grazie a quello che è già stato discusso nelle parti precedenti che in realtà sono soltanto delle repliche quindi state tutti tranquilli che i gioielli della principessa Diana non sono andati nelle mani di questa megera megera in senso di complimento però in realtà no, lei il giorno dopo è andata a fare jogging con i paparazzi in modo tale che le facessero le foto proprio perché non è stata invitata all'informazione siamo arrivati al numero 60 l'ultimo di questi punti, i no della famiglia reale a Meghan Markle vi ricordo che la fonte da cui provengono queste informazioni in lingua originale cioè in lingua inglese la trovate sul canale TikTok Royal News Today quindi il nostro ultimo punto dei 60 no ricevuti da Meghan Markle dalla Royal Family proviene da Re Carlo che ha detto no ad Harry e Meghan non verrete invitati al mio compleanno istituzionale l'evento noto come Trooping the Colors loro due non sono stati invitati, mi sembra un segno chiaro arrivati al numero 60 mi sembra che questa cosa non abbia bisogno di alcune spiegazioni aggiuntive loro si aspettavano di essere invitati come era successo per il precedente Trooping the Colors evento in cui Meghan aveva potuto sfoggiare lo stesso abito con cui è diventata più famosa come l'abbiamo potuta vedere e apprezzare veramente per la sua natura nella serie di South Park voglio fare notare soltanto quanto sembrava molto più giovane Harry all'epoca e secondo me non è semplicemente una questione di anagrafica ma di energia ricordatevi sempre che noi siamo energia e questa energia la dobbiamo preservare se stai accanto ad un'energia diciamo non tanto positiva questa cosa poi si vede guardate lui come sta perdendo i capelli a chiazze e questo è chiaro sintomo di stress farei un primo piano su di lei per vedere anche i segni sul suo volto ma meglio di no questo tra l'altro è karma perché lui nel libro Sperre aveva criticato il fatto che suo fratello non assomigliava più a sua madre proprio per il fatto che stava iniziando a perdere i capelli si dice sempre di non parlare troppo nella vita perché non sai mai quello che ti può succedere siamo arrivati alla fine di questa serie in più parti spero di avervi intrattenuto di avervi fatto compagnia di non essere stato troppo pesante se avete dei suggerimenti o desideri particolari riguardo a cosa vi piacerebbe che io parlassi nei prossimi video vi invito a scriverli qui nei commenti altrimenti faccio da me se non l'avete fatto ancora vi invito nuovamente ad iscrivervi al mio canale vi mando un saluto reale a tutti anche se ho l'entrata del stand-up comedy dove sono andato ieri adesso me ne vado in piscina e ci vediamo presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti